Alleluia, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame, Gesù le disse, chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, alleluia, in eterno sbatti, alleluia, alleluia, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Quindi Gesù ora le fa capire che lui è disposto a darle qualcosa, alleluia, di un enorme valore, di gran lunga superiore di quello che lei gli avrebbe potuto dare, ameno? Qualcosa di particolare, un'acqua particolare, alleluia, la donna samaritana, ecco, ma sempre perché, vedete, perché il modo di parlare, di esprimersi di Gesù è dolce, è mansueto, è pacifico, infonde pace, non ira, amene? E la donna già viene conquistata da questo modo di parlare di Gesù, che è diverso, che non è arrogante. Sì, è vero, è un giudeo, come tutti gli altri giudei, ma non è, non sta agendo come gli altri giudei. E, amene, è diverso, alleluia, e gli dimostra, vedete, che effettivamente è disposto ad aiutarla, alleluia, non so se riesco a capire, è disposto ad aiutarla, amene? Allora, a questo punto la donna comincia a capire, dice, guarda, questo qui mi vuole aiutare veramente. Allora dice, dammi, se tu mi dici che hai quest'acqua, dammi di quest'acqua. Allora Gesù, per farle capire che non la sta prendendo in giro e che non vuole approfittarne di lei, chissà cosa avrebbe potuto pensare, la donna, allora subito Gesù dice, vai a chiamare tuo marito, vuoi che io continui a parlare con te, vai a chiamare tuo marito. Fratelli, quando uno dice, vai a una donna, vai a chiamare tuo marito, oppure se non ha marito vai a chiamare tuo frate, a tuo padre, che cosa vuol dire? Che non ha intenzione di prenderlo in giro, è giusto, quindi ancora di più, vedete, il parlare di Gesù viene avvalorato, che veramente conquista il cuore della donna, alleluia, quindi questo che non sta facendo né per prendermi in giro, né per approfittarne, perché guarda, ora mi dice, vai a chiamare mio marito, alleluia, amén, gloria all'altissimo, alleluia. La donna dice, vai, Gesù disse, vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse, io non ho marito. E Gesù le disse, hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. La donna gli disse, signore, vedo che tu sei un profeta. Ora, non è Gesù che si avvanta, vedi che io modestamente sogno un profeta. No, il modo di parlare di Gesù, il modo di esprimersi, eh, conquista a tal punto la donna, eh, ora, a livello spirituale, eh, che la donna dice, ma tu sei veramente un profeta. Perché di come parli, di come agisci, e mi hai detto la verità di quello che tu non potevi sapere di me, allora sei un profeta. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia. Allora la donna dice, signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato in questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. A questo punto, guardate, come la donna pure, eh, non, eh, esce fuori dei discorsi stupidi, vani, ma mostra tutto il suo interesse, dice, se un momento io qua sto avendo a che fare con un profeta, allora aspetta, dimmi, come stanno qui le cose? Perché i giudei dicono che bisogna adorare in Gerusalemme, i samaritani dicono su questo monte, allora vedo che tu sei un profeta, dimmi la verità. Alleluia. Gloria all'Altissimo. E Gesù, alleluia, donna credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorrete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Quindi non ti lasciare ora ingannare dalla teoria dei samaritani, dalla dottrina dei samaritani. Non dimenticare che la salvezza viene dai giudei. Cioè perché Gesù è il Salvatore, il Messia che tu aspetti, come tanti altri credenti, diciamo, samaritani aspettate. Il Messia lo dovete aspettare dai giudei, la salvezza viene da lì. State attenti a come vi ammaestrano. Amen, gloria a Dio. Perché dice la salvezza viene dai giudei. Alleluia. Perché fino a questo momento voi avete adorato, sì, su questo monte, ma non proprio con la conoscenza della pura verità. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Ci siamo fin qui, gloria a Dio. Però, state attenti perché, fratelli, questo è un discorso serio stasera. Perché guardate il Signore, sapete quello che io sto comprendendo? Che il Signore ci sta dando una lezione di un sano comportamento nei confronti delle persone che non conosciamo. Alleluia. Tutto dipenderà dal nostro comportamento. Come noi, vedete, portiamo al mondo la salvezza in Cristo, ma nella maniera corretta e giusta. Non con uno spirito di grandezza. Non parlando male, ora di questo, ora di quello, già in partenza. Non senta, entrare in la Chiesa, non c'è andare. Perché lì hanno la dottrina diversa. Ah, no, sai, pare quell'altro, quell'altro. Come, per esempio, l'ho fatto che, un fratello mi ha detto qualcosa che effettivamente è diabolico. Vedete, un agire diabolico. Dice perché? Fratelli, quando uno, vedete, vuole effettivamente prodicarsi per la pace e vuole evangelizzare o portare anima a Cristo, non deve, alleluia, usare l'astuzia, la furbizia. Per cui seppente è astuto. Amen. Fratelli, ecco, vedete, questi spingono i credenti all'odio. Buttano il seme della discordia anche in quei cuori dove il Signore sta operando a livello spirituale, eh? In una maniera particolare e gloriosa. Alleluia. Gloria a Dio. Guardatevi, fratelli. Il giudizio deve sempre rimanere nelle mani di Dio. Alleluia. Amen. Guardatevi dal giudicare ora questo, ora quello. Alleluia. Il vostro parlare sia sempre con saggezza, con sapienza, ma non quella dell'uomo, quella di Dio. Il Signore Gesù questa sera ci ha mostrato come si parla. Alleluia. Gesù non l'ha insultata alla donna samaritana. Non ha parlato male di nessuno. Gesù ha parlato con amore, anzi, con umiltà e mansuetutine. E con l'umiltà e con la mansuetutine ha conquistato il cuore della donna samaritana e tanti altri samaritani. Perché alla fine anche altri samaritani hanno detto, ora, dice, noi crediamo. Alla fine qua mi pare che lo dice. Alleluia. E molti, dice, quando poi i samaritani vennero da lui, lo precarono di restare con loro ed egli vi rimase due giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, vedete, a motivo della sua parola, del modo di parlare. Fratelli, della sua parola. Che parola c'è? Ci cominciamo a parlare male ora di questo, ora di quello. Ci cominciamo a parlare male di samaritani, agli altri samaritani. No, gli ha parlato con amore come, con lo stesso sistema che aveva usato con la donna samaritana. Alleluia. E diceva, e molti di più credettero a motivo della sua parola, cioè del modo di parlare, di come lui parlava. Ed essi dicevano alla donna, non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Da che cosa l'hanno capito? Perché non isticò nessuno, né alla violenza, né all'odio. Alleluia. Amen. Gli parlò della salvezza. Gli parlò a tutti con amore, con quella sapienza. che viene veramente dall'alto, che soltanto i veri figlioli di Dio sanno usare al momento giusto e con le persone giuste. E Dio ci benedica. Alleluia. Il mondo aspetta la manifestazione dei tuoi figli. Signore, dove sono i tuoi veri, signore, discepoli? Alleluia. I tuoi veri apostoli, signore di oggi. Signore, ti preghiamo. Signore, se ti devi usare di noi, donaci il tuo amore, la tua divina sapienza. Signore, fai che possiamo seguire, signore, non a parole, ma con i fatti. Alleluia, gloria al tuo nome, le tue orme. Signore, fai che dai nostri volti si possa sprigionare quella luce divina, la luce dello Spirito tuo santo. ed ogni parola, signore, possa essere appunto condita con la tua sapienza, con il sale della tua sapienza. Alleluia, gloria al tuo nome, senza, signore, fare cosa alcuna per un utile, un vile guadagno. Signore, un utile materiale. No, signore. Come tu, Gesù, sei venuto per onorare e servire il Padre. Noi vogliamo onorare e servire te. E insieme a te continuare a onorare il Padre. Quindi ti preghiamo, prevalga in noi, te ne supplichiamo. Signore, per quanto riguarda la mia persona, credo anche che i miei fratelli desiderano questo. Ti prego, signore, per me e per loro. Alleluia. Metti il tuo amore, il tuo vero amore. Signore, il tuo vero Spirito, che ci faccia parlare in una maniera diversa, un linguaggio diverso da quelli del mondo. Oh, signore, dai falsi credenti. No, signore. Vogliamo essere veri i tuoi figlioli. E vogliamo dimostrarlo appunto con il nostro comportamento, con il nostro agire, con il nostro parlare, con il nostro modo di esprimerci. Gloria al tuo nome. Che tutto, signore, risulti sempre a gloria tua, Padre Santissimo, e di Gesù, che insieme a te lo benediciamo ora e sempre in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Grazie. Grazie.